Hola Automatikers e futuri Automatikers! Oggi imparerai e otterrai il dono dell'ubiquità. Ovvero, sarai presente grazie allo strumento che ti presentiamo oggi che è Restream.io o IO, come dicono quelli fighi, che ti permetterà di essere su più social, più piattaforme, in streaming, in contemporanea, anche in differita, tutta una cosa fichissima per multistreaming, multipiattaforma, facciamo un tutorial con un amico che ti presento fra un secondo, ma prima permettimi, come sempre, di presentarmi, perché l'argomento di oggi mi affascina parecchio, ci vorrei entrare subito, ma almeno fatti dare il benvenuto in Automatikers. Io mi chiamo Stefano e sono qui apposta per aiutarti a vendere di più, senza stress, perché sbattersi, eh? in modo grazie attraverso all'automazione di business, ovvero fare più cose in meno tempo. Io ti invito, se non l'hai ancora mai fatto e ti può piacere la cosa, ad iscriverti a questo canale, attivando la campanellina, di modo che YouTube ti manderà una notifica ogni volta che pubblicheremo un nuovo strumento, una nuova strategia, una nuova automazione, o una figata fascinantissima, affascinantissima, come quella di oggi per convertirti anche tu in un'automatica, ovvero un professionista o una professionista che ha un bel equilibrio, no, tra la vita professionale e la vita privata, perché? Perché, come diciamo sempre, e tolgo la grafichetta, qui nessuno, davvero nessuno, ci tiene ad essere il più ricco o la più ricca del cimitero, soprattutto se puoi permetterti l'ubiquità, no, Bernardo? Siamo ovunque, ciao Stefano, siamo ovunque! Siamo uno e trino, Bernardo, come stai? E che di più, ciao, benissimo, te Stefano? Alla grande, alla grande, alla grande, non vedo l'ora, presento con te la scaletta di oggi per Restream. Io ho un figo, figo, figo tool di automazione, multistreaming, multipiattaforma, che ti racconteremo fra un secondo, perché il primo punto è che cos'è Restream e soprattutto a che cosa ci serve. Ora, ubiquità a parte. La seconda cosa è, entriamo con te nello specifico di questo strumento, nel tutorial, e alla fine, last but not the least, ti daremo dei consigli tecnici a Micotomatiker per, appunto, per utilizzarla al meglio. Bernardo, partiamo dal primo punto. Io ti mi caravento, scaravento sul tuo desktop. A cosa serve e cosa fa Restream? Restream è una piattaforma che permette di andare live su più piattaforme. Cioè, in contemporanea, possiamo fare una diretta su più piattaforme. LinkedIn Live, per chi ha la fortuna di averlo, Facebook, pagine, gruppi, YouTube, Twitch, bla bla bla, vedremo che sono moltissime. Quali sono i vantaggi? Beh, facciamo una diretta unica, la mandiamo su più piattaforme, riusciamo a prendere l'audience e il target di più piattaforme, e quindi più visualizzazioni, più lead, più clienti, speriamo. E naturalmente in automatico. Ma quanto è bello, come lo dici bene, Bernardo? Ormai proprio siamo bellissimi. No, è molto interessante, perché in realtà il fatto che noi, tutti noi imprenditori, imprenditrici piccolini, abbiamo più di una piattaforma e non uno staff di solito dedicato, tu gestisci Facebook, tu di LinkedIn, di solito è un po' di un tutto, ecco, è importante avere una presenza su tutte le piattaforme, e se faccio una live, perché essere solo, per esempio, su YouTube, quando posso essere su più di una piattaforma, con tutti i vantaggi e gli svantaggi del caso, di cui parleremo fino, quindi resta fino alla fine, perché ti parleremo nel punto numero tre. Bernardo, questo strumento, aiutami a capire una cosa, ti permette di mandare la live, ma tu la devi registrare, insomma, produrre in uno strumento a parte, o te la fa registrare, diciamo così, te la fa streammare e ti gestisci anche la regia? Eccolo qua, ti gestisci anche la regia, cioè restrema una funzionalità che si chiama studio, ed è sostanzialmente una piccola cabina di regia, molto intuitiva, molto semplice, quindi bastano dieci minuti di test per cominciare a padroneggiarla, che ci permette di fare tutte quelle operazioni che vediamo dai grandi content creator che fanno le live, quindi fare apparire delle scritte, modificare le quadrature... Guarda, per esempio, un bel link in descrizione, eccolo qui, questa è la grafichetta, ci vuoi lasciare un commento? Questa è la grafichetta. Oppure ti chiedo, ti sta piacendo il video, te lo chiederò alla fine, grafichetta, e tutte le grafichette che vedi sono prodotte in un meccanismo similare. Perfetto. E quindi è una sorta di mini cabina di regia dove si possono chiamare gli ospiti, farli entrare nello schermo, farli uscire, un po' come fai tu, insomma, quando ti faccio arrabbiare che mi levi dallo schermo. Esatto. Torniamo, Bernardo, facciamo una cosa, ecco, la cosa bella di oggi ci sono io. No, non è vero. Vedi, io posso mettere a tutto schermo Bernardo, posso in qualche modo affiancarci in una modalità con uno sfondo o in una modalità a tutto schermo, posso far apparire i nomi, posso far apparire eventualmente me solo con lo schermo, tutti e due con lo schermo, solo lo schermo, tutta questa cosa qui è fatta con una regia che io in questo momento sto utilizzando per produrre questo video in diretta con Bernardo. Bellissimo, fighissimo, fighissimo. Bernardo, ci vuoi far vedere qualche altra pagina? Così poi entriamo nella parte 2 del tutorial. Andiamo a spulsarci un pochettino lo strumento. Dicevamo multipiattaforma, quindi vuol dire si può decidere di inviare la nostra diretta su appunto più sistemi, più piattaforme social. È molto semplice, ci sono dei flag, dei pulsantini, che si possono accendere gli interruttori, accendere o spegnere, a seconda delle piattaforme che io scelgo come destinazione del mio flusso di streaming. Naturalmente Restream permette anche di programmare le live, questa è una cosa molto importante. Cioè io programmo una live fra una settimana, perché Facebook di più non permette, e cosa succede? Restream automaticamente crea un post sulla mia pagina collegata di Facebook che annuncia la diretta. Questo che cosa permette? permette intanto di raccogliere adesioni alla live che farò. Quindi quando poi, bravissimo, preventive, quando poi io andrò davvero in diretta, gli utenti riceveranno una notifica dicendo ehi, lo sai che Bernardo e Stefano sono in diretta? Grande. Ti faccio una domanda difficile, anzi due domande difficili, perché voglio rimettere in difficoltà oggi. La prima, puoi streammare, puoi mandare in streaming come se fosse in diretta un video, diciamo, anche registrato e due, puoi invece solo registrare invece che andare in streaming? Ah, Stefano, per fortuna me la sto cavando, perché ho la risposta a queste due domande. La prima risposta è sì, nei piani un pochino più premium di Restream possiamo registrare un video e poi inviarlo successivamente come se fosse una diretta. Registrare un video e come si fa a registrare un video? Non ho il software, come si fa a registrazione dello schermo, la mia camera? No. Restream permette anche di utilizzare studio, quindi la mini regia, soltanto per la registrazione. Quindi registro un file, che è un file video, normalissimo, senza inviarlo sui social, se io scelgo e poi ottengo appunto il file video per una post-produzione, per un invio live. Speriamo non nel cestino, speriamo di aver fatto un bel video. E infatti, nei piani più alti ti permette anche di avere gli audio, le sorgenti audio, per esempio, come stiamo facendo io e Bernardo, non siamo in diretta, siamo in un video registrato, stiamo utilizzando una piattaforma, uno studio di registrazione e io avrò il mio audio separato, Bernardo avrà il suo, di modo che se serve fare degli accorgimenti anche in post-produzione il video finale sarà un poco più di qualità. Questo appunto nei piani un po' superiore. E la seconda domanda che speravo di metterti in difficoltà, ma niente. Eh, no niente, ti è andata male, ti tocca togliermi dallo schermo. No, dicevamo... Non lo dire due volte! Aia! Sull'audio è importante perché magari Stefano ha una voce molto squillante, molto bella e magari non tutti i suoi ospiti hanno lo stesso livello di volume e di equalizzazione. Quindi la post-produzione serve anche a questo, a normalizzare, diciamo così, a rendere più coerente anche l'audio. Ci sta, ci sta. Ci porti nello studio così accediamo al punto 2? Sì, 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 ti porto nello studio. Prima però ti faccio vedere una cosa, la chat, la funzionalità chat che molte di queste piattaforme hanno, quindi chat può essere addirittura mostrata in video. Questa è una cosa veramente carina nella nostra vita. Ah, questo è interessante. lo ridico bene perché mi piace tanto questa cosa, nel senso che tutte le chat che ti arrivano, i commenti da tutte le piattaforme che tu ci hai collegato, tu non solo le potrai leggere in un solo posto nel tuo studio, ma i commenti che ti sembrano più interessanti potresti prendere, potresti, puoi, prendere, premere sul pulsantino e te le sbatte in, diciamo, in video, come se fosse un pop-up o una grafichetta che tu puoi mostrare mentre sei in video. Questo è potentissimo a livello di audience. Grande, bravo per averlo detto. Sì, e non solo, c'è una piccola cosa, per alcune piattaforme in particolare, LinkedIn non credo, ma le altre sì, si può addirittura rispondere ai commenti direttamente dal restremo. Quindi non è necessario neanche se ci sono dei commenti che presuppongono un intervento immediato, non so, non sento l'audio, delle cose, non devo uscire dalla piattaforma o chiudere la finestra, magari con il rischio di interrompere la diretta o di fare casino, si può dire casino? Si può dire, si può dire, si può dire, ok, casino, ma posso direttamente rispondere al commento da restream, quindi risparmio tempo e in automatico il commento mi va su social media. Che bello, vediamo questa piattaforma, vediamo come si presenta, ah, c'ha pure le analitiche. Ah sì, ci sono le analytics, naturalmente le ho fatte vedere in maniera iperveloce, sono le analytics per capire quali sono stati, analizzare la nostra live per capire quali sono stati momenti magari migliori con i picchi di ascolto, quelli che hanno riscosso un po' di interesse o successo. Questo è il restream, è la piattaforma innanzitutto, è la dashboard principale, quindi non è la sala di regia, ma è la dashboard di controllo prima di una live. Al centro, come al solito, in molti di questi tool ci sono le funzionalità principali e a sinistra c'è il menu. E il menu è suddiviso in live studio, vedremo dopo, è la nostra regia, events, cioè sono gli eventi programmati, video storage, che è il cloud, cioè quindi quello spazio in cui sono alloggiati i video che noi abbiamo registrato e le live che abbiamo fatto, pronti per appunto un download e una post-produzione, e poi lo scheduler, che è quello appunto per programmare le live successive. Permettimi di fare un focus sul live studio, che è la nostra, il nostro centro di controllo, la nostra sala regia. Aspetta, 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 prima che farlo, vedo una cosa che mi piace. Che cos'è quel tool per startup? Dai, che all'inizio non l'abbiamo detto. Che cos'è quel tool per startup? Ti dovrei levare io dallo schermo. Il tool per startup è il mio blog, è un blog in cui io prendo un esame, faccio recensioni di tool e software per il business che devono essere economici, accessibili e semplici da utilizzare. Un po' come il restream. Grande, grande, grande. In descrizione, come ho fatto vedere dalla grafica, ci sarà il link al sito di Bernardo, al blog di Bernardo. Fighissimo, vi consiglio di dargli un'occhiata perché ci dovrebbe essere anche un articolo molto figo e molto interessante proprio sul restream. Andiamo nel tuo studio, andiamo nello studio. Velocissimo, velocissimo. È molto semplice l'utilizzo. Qua c'è quello che andrà in onda, qui ci sono i setup principali, un po' quelli che ci hai fatto vedere tu, no? Due schermi vicini, uno schermo grande, lo schermo condiviso più la faccia dell'ospite o del relatore. A destra ci sono le funzionalità, in questo caso grafica di branding. Quindi, come sono il tema per far apparire delle scritte, il colore principale, la grafica, se ci deve stare un logo, l'overlay, che io posso cancellare e inserire, vedete, con un click, quindi in maniera molto semplice, molto veloce, il logo. Questa cosa qui, semplicemente, aspetta, scusami Bernardo, voglio dire, puoi realizzare semplicemente con Canva. Ti lascio anche di questi link in descrizione e si aprirà anche a un'etichetta qui in alto. Abbiamo fatto un bel tutorial dove ti racconto come utilizzare questo strumento e soprattutto come utilizzare e sfruttare il marketing, la brand identity, l'identità della marca. Ecco, questa cosa qui, basta che ti fai una bella grafichetta in Canva, esporti come PNG, Palermo, Napoli, Genova e esporti questa grafichetta che semplicemente quel bianco che tu dentro Canva vedevi, non lo vedi più e ti appare una grafichetta come questa. Quindi io l'ho disegnata in Canva dandogli un formato, aveva un fondo bianco ma in realtà tu il bianco non lo vedi, ci vedi me e Bernardo e vedi solo iscriviti al canale. A proposito, iscriviti al canale. Posso dirle due cose? Velocemente, ma stai spessando. guarda, ti metto pure a schermo intero. No, davvero. Allora, la prima è se mi puoi invece condividere il mio schermo che voglio fare vedere una cosa, allora, se avete dubbi sulle dimensioni di questa finestra basta andare qua, Restream ci dice le dimensioni esatte di questa immagine che poi voi farete in Canva, mi raccomando con fondo trasparente perché se no le vostre facce verranno coperte dall'immagine e qui ci sono le dimensioni. Altra cosa, il problema che c'era durante le dirette voglio dire una cosa a Stefano ma non voglio dirla al microfono e farla uscire fuori, voglio dirgli una cosa a lui, c'è una chat privata qua in basso dove i relatori perché magari sono quattro o cinque possono chattare, conversare tra loro senza andare in diretta fuori. Guarda, per esempio mi è capitato qualche tempo fa di fare una live dove uno degli ospiti era in esterne aveva un po' di vento e quindi dal microfono si percepiva semplicemente ho scritto metti in mute quindi silenzia il tuo intervento quando non parli perché si sente l'aria nel microfono non lo potevo dire in diretta faceva una brutta figura comunque non era calino non era delicato ecco questa è una chat per tutti quelli che sono presenti per gestire queste cosette. Bravo Bernardo mi stai stupendo oggi posso dirlo? torniamo sullo schermo fammi vedere raccontami questa parte qui quindi la prima schermata che abbiamo visto quella di prima sulla destra erano quelle grafiche queste che sono invece? Allora la grafica si può lasciare la grafica si può togliere come abbiamo visto con un click poi caption ci sono dei testi vedete che qui c'è la tipologia di tema che utilizzerò per i testi e in questo caso fammelo fare un po' fammelo fare appare appare con un'animazione un po' come uno studio tv non so se vi vengono in mente magari il telegiornale quelle o sky tg24 appaiono queste scritte e si possono mettere delle call to action quindi delle chiamate all'azione come dicevi tu link in descrizione andate al canale seguici su facebook seguici su instagram naturalmente anche brandizzati con i propri colori il mio è l'arancione e si vede certo certo e quella parte lì di chat invece era la chat quella non quella privata ma quella dove appaiono tutti i messaggi di gruppo sì quella privata è qua giù in basso e qui appaiono messaggi di gruppo no non appaiono sono solo i messaggi di gruppo i commenti che ci sono sui social quindi io vedo vedo prima il commento se il commento è un'offesa pesantissima magari non lo mando in diretta se il commento invece aiuta la discussione spinge magari anche il mio business sono semplicemente complimenti lo mando lo posso mandare in live un po' come ho mandato la mia scritta però che piaccia sopra vedi se quel commento di test te lo permette di mandare guardalo lì guardalo lì guardalo lì si aspetta che tolgo questo eccolo guarda come appaiono i commenti rispetto alla grafica e i colori che Bernardo ha scelto nel suo brand molto 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 interessante c'è qualche altra cosetta che ci vuoi far vedere di questo di questo di questo strumento oppure ci siamo beh la cosa la cosa non la faccio vedere ma la cosa sostanzialmente importante le cose importanti di Restream sono due che ho potuto trovare a alcuni competitor ma innanzitutto il flusso è stabile quindi non ho trovato grossi problemi di instabilità di flusso audio video quindi la diretta si vedeva bene scorreva fluida due permette il collegamento con oltre 30 piattaforme nei piani naturalmente premium questo che cosa vuol dire che se ci sono anche piccoli business che magari stanno internazionalizzando o hanno internazionalizzato e stanno andando in Cina le piattaforme in cui cinesi russi o paesi appunto magari asiatici visualizzano i contenuti sono diverse dal nostro non è detto che la portata di alcune piattaforme sia la stessa anzi loro hanno delle piattaforme che sono diverse restream ne include più di 30 che bello io ho due cose aggiungo una se vogliamo invitare un ospite abbiamo detto che abbiamo la possibilità di farlo con degli ospiti queste live fino a 4 normalmente nello schermo normalmente seconda dei piani fino a 10 in regia quindi vuol dire che tu avrai nel tuo studio 10 faccette 4 le mandi live ma poi una la togli una la mette e ne puoi tenere fino a 10 nella regia normalmente poi dipende sempre dal momento in cui vedrai questo video vai su restream ci dai un occhio e capisci quanti personaggi puoi avere nella diretta ma come facciamo a invitarle questa persona nell'indiretta bello bernardo bravissimo vai su questa faccina con quel più copi questo link né più né meno è un link e una volta che l'hai copiato la persona apparirà come per magia all'interno del tuo studio e tu ci cliccherai sulla faccetta per mandarla in diretta live e poi la seconda cosa che volevo dimmi no no dicevo perfetto ah grava che bello come mi piace oggi invece la seconda cosa che ti volevo dire è come ti ho detto all'inizio questo dono dell'ubiquità automatica che hai appena guadagnato con restream e qualche euro al mese ti permette di farlo ma da un grande potere derivano grandi responsabilità nel senso va bene per dirlo con un altro detto non è tutto oro quello che luccica voglio dirti che numero uno ci sono 30 piattaforme ma magari se usi facebook e youtube non c'è motivo per ricominciare a fare streaming su twitch se non hai un audience se non hai cioè non è che perché devi lo puoi fare lo devi fare necessariamente su tutti e 30 anzi e al secondo è occhio che ogni piattaforma ha le sue il suo gergo le sue peculiarità se io sto facendo una live su facebook e su streaming su linkedin per esempio e su youtube ecco non posso dire iscriviti al canale perché perché le persone che mi guarderanno da linkedin da facebook capiranno che non è proprio fatta per loro e anche qui non è proprio delicata come cosa quindi magari è iscriviti e la lasci un po' generale oppure scrivimi nei commenti e la lasci più generale ma non gli puoi dire attiva la campanella o a viceversa stai facendo una live su linkedin o su facebook o quello che sia e ci sei anche su twitch non gli puoi dire iscrivi non so metti like a questa pagina ok quindi oltre che a livello proprio terminologico di gergo ma anche proprio i tipi di contenuti che funzionano su twitch non sono quelli che funzionano su facebook men che meno quelli che funzionano su linkedin su youtube quindi cerca di studiarti un pochettino prima il format che stai andando a fare perché non solo sei più su piattaforme ma devi anche avere la preparazione tecnica e di contenuto per esserci su più piattaforme altrimenti fai un buco nell'acqua e non è il massimo volevi aggiungere qualche cosa amico mio sì come dicevi tu la preparazione nel live è molto importante quindi se avete degli ospiti magari fate un brief prima e collegatevi date un appuntamento un venti minuti prima almeno un quarto d'ora prima per fare tutti i check audio video di illuminazione che non ci siano rumori disturbi che la connessione sia stabile provate a fare una scaletta anche dei vostri interventi quindi proprio come se vi immaginereste un tg o una trasmissione tv perché in realtà è questo quindi provate a prepararla preparate le grafiche prima magari dedicate per ogni live quindi le scritte conterranno l'indirizzo internet del sito dell'ospite oltre a quelle brandizzate nostre quindi preparatevela prima il risultato ne guadagnerà fa una grande fa una grande differenza anche perché la cosa che ti volevo dire era nel momento in cui vai su più di una piattaforma per esempio puoi prepararti la grafichetta come questa qui fatta in canva ricordati esporta un png con fondo trasparente e poi utilizzare alle persone che ti stanno guardando una grafichetta come questa per chiedere ti sta piacendo amico automatiker o amica automatiker questo video bene lascia un bel like di modo che anche bernardo finalmente è contento di tutto il lavoro che sta facendo e soprattutto se invece non solo ti sta piacendo questo video ma ti interessa il mondo dell'automazione ovvero imparare a vendere di più senza stress strumenti strategie automazioni e figate come quella di oggi bene se ti interessano tutti questi argomenti iscriviti al canale queste sono due grafiche png esportate con sfondo trasparente fatte in canva che si possono tornare utili a ogni occasione bernardo come stai tutto bene bravo benissimo e se poi avete domande guarda 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 ah e vedi vedi ormai ormai abbiamo tutto ci abbiamo tutto scrivici nei commenti io e bernardo saremo più che felici di risponderti magari di se avete dubbi se hai domande se vuoi condividere qualche trucco qualche tua esperienza per delle live o per delle registrazioni in studio di stream yard di stream yard no di restare ma anche di stream yard volete perché sono molto simili lo smetti in descrizione ragazzo io come sempre ti ringrazio Stefano grazie a te e un saluto a tutti alla prossima alla prossima un abbraccio dalle canarie e buone automazioni ciao ciao